Saluto sera. Penso che è peggiorato sulla testa. L'incontro di testa del primo tempo. Valter, hai fatto qualcosina da dedicare a Zommers perché noi i nostri ospiti... Pronta! Bravissimo. Allora mandiamo questa dedica a Zommers per ringraziarlo di essere venuto qui da noi. Grazie per la visione! A presto, ciao! attenzione attenzione allora